Una gradinata telescopica al posto delle poltrone. E' questo in sostanza quanto ci si troverà davanti a partire da febbraio prossimo al Teatro Rasi, grazie ai lavori sostenuti dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia Romagna con la collaborazione di Ravenna Teatro. Il costo dell'intervento, che prevede anche un consolidamento del solaio di copertura a carico del Comune, ammonta circa 600.000 euro. La gradinata telescopica ci permetterà una visione sicuramente più coinvolgente perché potremmo vedere le opere dall'alto, quindi potremmo vedere anche le opere di quegli artisti che fanno azioni per terra, piccole, potremmo avere quindi una visione ravvicinata con l'attore. D'altra parte la gradinata telescopica, cioè una gradinata che si apre e che si chiude all'occorrenza, ci permetterà di immaginare tutto il Teatro Rasi come un grande palcoscenico. Quindi tutto lo spazio che era quello della platea sarà anche utilizzabile per piccoli spettacoli, conferenze e incontri. Questa gradinata telescopica permetterà inoltre sotto la galleria, sotto le poltrone, dove oggi c'erano le poltrone delle gallerie, di avere un nuovo spazio, una nuova sala foyer, una nuova sala prove proprio indipendente e autonoma. Quali saranno i tempi? Allora, i lavori sono iniziati una settimana fa, il 19 di luglio, e dovremmo riaprire le porte del teatro i primi giorni del febbraio del 2022. Siamo dentro il cronoprogramma che ci eravamo dati quando abbiamo presentato il progetto, progetto che noi abbiamo realizzato grazie al contributo del Comune di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna, grazie a un bando che permetteva di ristrutturare i teatri della Regione Emilia-Romagna. Dico, siamo dentro i tempi perché noi questo bando l'abbiamo presentato nel 2018 e sapevamo già che avremmo iniziato i lavori nel 2021 dopo la trilogia. Non ci si aspettava una pandemia, ma purtroppo questa cosa ci è successa. Covid permettendo, dove verrà spostato al momento il lavoro di Ravenna Teatro? Allora, infortunatamente gli uffici continuano a operare, a essere aperti, ma tutta la parte legata alla programmazione invece sarà fatta al Teatro Alighieri con la stagione dei teatri che non vediamo l'ora di vedere ricominciare e ci sarà un progetto speciale insieme alla Cooperativa E, un'edizione speciale di festa, il festival della Cooperativa E e una programmazione a Piangipane insieme ai ragazzi del Teatro Sociale. Ecco, questo vedere il trasi chiuso può essere anche un'opportunità per provare a scoprire e abitare e a collaborare con altre realtà della nostra città che fanno un lavoro da sempre molto prezioso.